ma se veramente non vi iscrivete non so a che altro canale potete iscrivervi sculo pingu è finalmente tornato ecco il botto va bene il giorno di pasqua però ciao ragazzi sono pingu e bentornati qui in questo mio nuovo video oggi nuovi premi della weekend league siamo su primo account dove clamorosamente abbiamo fatto livello 4 quindi mentre vi parlo vi faccio vedere un paio di immagini di un 2 sculate quindi come sempre quando non registro trovo di tutto intanto vi ricordo comunque di lasciare un like un commento iscrivetevi al canale e attivate la campanellina perché se non lo fate vengo a cercare e chiaramente vi picchio con il classico ormai telecomando e quindi mentre trascorrono appunto queste bellissime immagini di sculate al di sotto io direi soltanto che se non trovo una icon titan come si chiamano o gli hero mi incazzo quindi direi di non per altro tempo dopo ovviamente vi ricordo di andare a recuperare anche il video sul secondo account che uscirà nei prossimi giorni quindi restate aggiornati io direi di non per altro tempo andiamo masculare il team of the week sinceramente non ho la mia idea di chi sia quindi andiamo dai vediamo le cuffie tattiche ok dai non chiedo tanto ma a me basta un icon una anche la più scarsa che te frega che picchia ma cos'è ma cos'è e non ho capito dovrebbe costare di più quell'altro e close tutta io sul primo account prendiamo close ma dammi separati no ma iniziamo così con icon così con miro close ok mi piace sottitolo ecco e non mi dai arnold spazzenegger ma va avanti dai questo è Yaya Toure se esce Yaya Toure io penso che esplodo dai fifa perfetto vabbè un icon ce l'abbiamo ci abbiamo il titolo bene ottimo quindi direi di non per altro tempo andiamo avanti con i pick non ripeto non ho la mia idea di chi cacchio sia la sua una settimana quindi vai ok prendiamo un Mcgene non so chi sia quindi non ho la mia idea di chi posso trovare non prenderò mai buonaventura geni bella carta geni carina peccato che c'è un centrocampo che leggermente insostituibile però dettagli jesus bello gabriel giustamente siamo sotto pasqua perché per me domani e pasqua per voi non so quando uscirà questo video dovrebbe uscire ma di 11 dovrebbe essere spero che sia tutto giusto con gli orari va bene un icon trovata andiamo nei pacchetti ci vediamo tra poco ok eccoci qua ragazzi abbiamo 19 pacchetti quindi iniziamo cattivi sono dura sei ore il video mega pacchetto intanto comunque ok bandierina odegaard vabbè 8 e 44 non è male 84 finirà dentro a roichin altri due giocatori 81 più dai dai fifa dai oggi voglio l'aico anche dal pacchetto sempre bandierina zappata no luiz diaz vabbè 108 anche lui andrà in roichin vi direte ma perché fa i roichin che c'è comunque c'è già un centrocampo pazzesco non chiedetemi c'è ho gattuso pirlo e kuit quindi si potrei rinforzare kuit però andiamo avanti altri due giocatori 81 più ma una sculata ok walk out germania portiere tra mai una volta e fosse noiare mai va bene 5 80 più dai fifa dai fifa che mi mi sento che trovo un icon anche da qua bandierina germania dc siule vabbè 85 sempre buono vai 11 81 più dai fifa dai fifa che abbiamo tanti pacchetti possiamo sculare oddio cos'è champions league holland erling mio fratello holland con la musica della champions league che voi non sentirete perché mi daranno copyright lascia un like te lo dice holland mio fratello mamma mia quanto segnocco mio fratello braunto holland che non posso vendere perché siamo sul primo account c'è questo 81 più ammazza e dalle statistiche infortunio facile mortaci tu sapete che non me ne frega niente e questo sarà il mio attacco antitolare fino alla fine anno 11 81 più di nuovo dammi un icon no bandierina brasile dc fabinho casemiro buono casemiro 89 ammazza beh visto che ci sono tante sbc solo che culo questo ok ok buono nextissimo vai giocatori rari non scambiabile però rari bandierina svizzera portiere summer l'immortaci sua e doppione parca mare mega pacchetto che scambiabile quindi troveremo messi la sterlina la sterlina sempre utile la sterlina visto che andiamo in inghilterra è sempre utile rari maxi dai 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 fifa dai fifa dammi un icon walk out francia portiere lioris lioris non credo di averlo spero non lo so non ricordo più chi c'è nel club talmente tanti giocatori no non ce l'ho ultimate dai fifa dai fifa ti prego dai fifa ti prego volk out navas vabbè sempre un altro 88 ho un dubbio non mi ricordo se ce l'ho però non mi ricordo se il primo secondo account non ce l'ho buono meno male 283 più dai fifa voglio un icon o un iro dai dammelo dal pacchetto e c'ho la copertina direi sono dove andare a bestemmiare per farla chi sei fabbigno vabbè oh ragazzi non mi posso lamentare però se mi dai un icon o un iro non è che mi arrabbio eh giuro visto che me l'hai data nello stesso picco l'immortacci tua dammela separata non potevo prendermi tutti e due come che giocassero nella squadra eh però vabbè dettagli apriamo il team of the week via tanto non c'è niente adesso ronaldo messi mbappé attenzione francia? ad? ah è l'onorato di primo ho detto francia ho detto mbappé non è possibile ammazza doppio francese più uno che cacchi nazionale? ah guinea vabbè next allora abbiamo due da 20 84 più degli swap 5 84 più e un giocatore 85 io direi 5 84 più dai dammi lì anche Donovan mi accontento niente Spagna DC la porta mamma mia questo è orribile questo è orribile e 5 84 più mamma mia ovviamente non sarà mai scambiabile infatti va bene chi se ne frega ciao vai andiamo con 85 più perché ci sta uno singolo povero oddio if italia no sicuramente tu ma io lo sapevo che ogni volta che un giocatore fa il fenomeno contro l'india io lo trovo ma va a fan c***o ultimi due pacchetti ragazzi vado una mia 30 minuti di video io non so come cacchio l'Italia dai 20 84 più dai FIFA ti prego dammi una carta speciale cos'è ma va a fan c***o l'Europa League ma va a che paese va a Pedro con lui se fosse un hero oddio 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 ma che che pacchetto è ma che pacchetto è way of the match icon hero messi ma che c***o if no vabbè ragazzi questo è il pacch opening più bello che abbia mai fatto se non vi iscrivete in questo momento io penso che vi vengo a cercare veramente non è che vi picchi col telecomando vi picchio direttamente con il mouse che è ancora peggio ma in che senso questo finisce su tiktok non so come ma me lo metto su tiktok ma guarda dove finisce gli 80 cioè 84 oh che pacchetto è saluta gli amici di tiktok quando vedranno mai questo video ma questa carta è fighissima di Lam grazie Donovan di essere uscito e manca ancora un pacchetto può succedere di tutto ragazzi io ve lo dico cioè se non vi iscrivete oggi non vi iscrivete mai più veramente perché ho trovato il tutto tutto ma adesso mi spinghi perché l'icon va sotto a quello là ma cacchio è possibile cacchio ma mettimelo in copertina no? bastardo ultimo pacchetto con la gioia nella vita io non so più cosa posso trovare a sto punto dammi del piero 95 e io mi tolgo la maglietta in diretta altro man of the match tapsoba però occhio perché sotto non mi stupirei di trovare una try calmi calmi se succede lo faccio ma ve lo dico no non è successo però comunque doppio o meno match aspetta 10 doppioni può essere che è doppiona eh no ok di nuovo Vlauic vabbè ragazzi non so quanto sarà venuto questo video ma se veramente non vi iscrivete non so a che altro canale potete iscrivervi sculo pingu è finalmente tornato ecco il botto vabbè il giorno di Pasqua però vabbè ragazzi spero il video vi sia piaciuto se è così e se volete sculare anche voi lasciate un like un commento iscrivetevi al canale e attivate la campanellina perché se non lo fate vengo a cercare e oltre a venire con il telecomando vengo con tutti gli amici di FIFA e vi cancello l'account seguitemi qua su Instagram qua su YouTube e ovviamente anche su TikTok perché è il minimo dopo questo pack opening vado a registrare anche il secondo account perché se trovo così il secondo account penso che esplodo e io non posso dirvi altro che non so quando non so come non so perché ma l'importante è dire FIFA grazie no pingualè però nel dubbio sempre grazie FIFA ciao grazie a tutti Grazie.